E i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci e Paolo Parentela hanno consegnato al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Vincenzo Antonio Lombardo, due esposti sulla sanità calabrese. Il primo riguarda il finanziamento della Regione Calabria all'Università di Catanzaro, l'altro esposto ha riguardato la convenzione tra il Bambin Gesù di Roma e il Pugliese Ciaccio, sempre del capologo calabrese. I deputati del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci e Paolo Parentela, hanno depositato presso la Procura di Catanzaro e la Corte dei Conti due esposti. Il primo riguarda il finanziamento all'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro, che secondo i parlamentari sarebbe in evidente carenza di valido protocollo di intesa tra la Regione e l'Università. Il secondo esposto è sull'intesa tra gli ospedali Pugliese Ciaccio e il Bambino Gesù di Roma. Per entrambi i grillini parlano di danno erariale per i cittadini calabresi. Gli esposti sono stati consegnati al Procuratore Vincenzo Lombardo e all'Aggiunto Giovanni Bombardieri. Sulla Mater Domini, la Nesci ha spiegato che la Regione eroga all'Università finanziamenti pubblici per l'attività assistenziale fornita dall'azienda universitaria in assenza di protocollo scaduto da quasi sette anni. Secondo quanto rilevato dai 5 Stelle, il finanziamento basato sullo storico è pari a 52 milioni, mentre quello derivante dalla produzione dell'azienda ospedaliera non supererebbe i 30 milioni, per cui, secondo i deputati, la Regione, dal luglio del 2012, sta indebitamente erogando circa 20 milioni all'anno in più rispetto al dovuto. Nesce e Parentela hanno spiegato anche che l'intesa tra il Bambin Gesù e l'ospedale catanzarese è stata già valutata negativamente dal tavolo massicci per la duplicazione dei costi relativi alla pediatria ospedaliera nella città di Catanzaro. Siamo per l'ennesima volta, anche in questo caso, non si rispettano le regole per quanto riguarda la sanità in generale calabrese, così come segnalava appunto la Commissione Serra nel 2009. Questi fatti che noi stiamo appunto denunciando, li stiamo denunciando solamente noi, il Movimento 5 Stelle, e nel frattempo i partiti politici litigano su dove fare i nuovi ospedali. Oltre a chiedere ai magistrati di valutare responsabilità penali, i grillini hanno chiesto che il commissario Massimo Scuro e il Presidente della Regione, Mario Liverio, rivedano il finanziamento e l'intesa.